Devi mettere in sicurezza un grattacielo. Non sarà una cosa rapida, ti conviene fare spazio in agenda. Grazie a tutti. 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 Non devono girarci Sono bloccato qui Sono a tiro Sono bloccato qui 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 Seguardo qui Sono bloccato qui Eso bloccato qui TG, agente a teca. 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 Agente a teca. TG, agente a teca. 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 Grazie a tutti. 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 Agente a tutti. Agente a terra. Agente a terra. Agente ucciso. Grazie a tutti. 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 Agente fuori combattimento. Agente fuori combattimento. Medività. Agente fuori combattimento. Agente fuori combattimento. Agente fuori combattimento. Grazie a tutti. Merda! A un agente serve aiuto. A un agente serve aiutari e aiutari e aiutari. Nuova sul piano! Adios! Mi ha preso la mano! Serio? Uno in meno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.